Allora, buongiorno e bentornati su Parabello, ho il piacere di avere ospite qui con me, Alessandro Barbero. Grazie per aver accettato. Buongiorno. Allora, professore, lei so che ci diamo del tuo, abbiamo deciso, quindi... Allora, so che sei molto occupato, quindi grazie insomma per questa occasione, per parlare anche un po' di storia. Sai, io mi occupo molto di quello che succede adesso, quindi ogni tanto mi piace, diciamo, rilassarmi anche con qualcosa che piace a noi. Quindi so che il tempo è breve, quindi vorrei partire direttamente dalla prima questione. Ovvero, secondo te, ci sono dei parallelismi tra la Belle Epoque e il periodo che abbiamo vissuto, cioè di relativa pace? Nel senso che sembrava che le guerre non ci riguardassero più, specie in Europa. Ci siamo illusi? Sì, ci siamo illusi di sicuro, sì. Sui parallelismi, beh dunque, intanto tu naturalmente dai per scontato che ancora oggi tutti sappiano cosa vuol dire Belle Epoque. E cioè come è poi stata chiamata, credo solo a posteriori, i decenni precedenti alla Prima Guerra Mondiale, insomma, alla fine dell'Ottocento. Ecco, tra l'altro io non ho mai studiato, sarebbe interessante andare a capire chi ha inventato questa espressione Belle Epoque, ma certamente è una cosa a posteriori. Secondo me non ci sono grandi paralleli in questo senso. La Belle Epoque è un'epoca in cui l'Europa si è sentita trionfante, padrona del mondo, alla testa del progresso, con una civiltà meravigliosa, superiore a tutte le altre, con risultati tecnologici mirabolanti. E noi oggi ci gloriamo dei nostri, ma loro avevano appena inventato l'aereo e l'automobile, non so se mi spiego, nonché certi pezzi di artiglieria pesante, che poi hanno avuto anche loro il loro significato, naturalmente. Allora, in questo senso, certo, quando poi sono precipitati in una guerra, non in attesa, attenzione, anzi, aspettatissima, però questa guerra si è rivelata catastrofica, è durata quattro anni, anziché due mesi, come loro credevano, e ha distrutto l'Europa, allora dopo si sono tutti detti come era bello prima. Noi usciamo, usciamo. A dire il vero, noi in Occidente siamo ancora dentro, finché i nostri governanti non decidono di farcene uscire, ma noi siamo ancora dentro una bolla di pace in cui, bene o male, nonostante qualche sbandata, grosso modo i paesi in cui noi viviamo in Occidente vivono in pace e potrebbero vivere in totale pace, se volessero. La differenza, però, rispetto alla Belle Epoche è enorme in questo senso, che noi davvero, dopo la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo deciso che la guerra è una cosa, noi dico in Europa occidentale, negli Stati Uniti già meno, ma insomma, però l'impressione era che la civiltà avesse preso atto del fatto che la guerra è una cosa spaventosa. L'ONU, che si è rivelata poi un drammatico fallimento, ma era stata pensata anche proprio per limitare il ricorso alla guerra da parte dei singoli stati. Paesi come l'Italia o il Giappone avevano messo in costituzione il ripudio della guerra, si intende, non in senso strettamente difensivo, ma della guerra come normale, è un modo per risolvere le controversie, che è il modo in cui invece ancora lo intendono in altre parti del mondo, anche abbastanza vicine a noi. C'è una controversia, non la risolvi, fai la guerra. Si è sempre fatto così, ben inteso. Invece noi dal Secondo Dopoguerra in poi ci siamo creati questa cosa, che in apparenza è un progresso straordinario. Se fosse coerente e se funzionasse sarebbe comunque un grande progresso, credo per l'umanità aver preso atto che la guerra è sempre una cosa orribile. E sta di fatto, che tranne appunto, ripeto, qualche sbandata, qualche bombardamento su Belgrado o su Baghdad, però insomma un paese come il nostro di fatto è vissuto in pace ormai per un tempo incredibilmente lungo rispetto a qualunque epoca passata. E ci credevamo e spendevamo pochissimo in armamenti e non c'era nessun vistoso militarismo nella cultura collettiva. Ecco, questa è l'enorme differenza rispetto alla Belle Epoque. La Belle Epoque hanno scoperto dopo che per quasi 50 anni non c'erano state guerre in Europa, tranne naturalmente le guerre balcaniche, poi le guerre coloniali, naturalmente, tutti, continuamente. Era anche un concetto di pace tutto relativo, quello di fine ottocento. Gli eserciti della regina Vittoria combattevano, ammazzavano e si facevano ammazzare in varie zone del mondo, però l'Europa stava in pace. Ma non è che loro credessero che le guerre erano finite, anzi, loro erano tutti perfettamente convinti che prima o poi ci sarebbe stata un'altra guerra ed erano tutti lì che si armavano disperatamente per vincere la prossima guerra. I paesi europei a fine ottocento, inizio novecento spendevano in spese militari una proporzione del PIL che per noi sarebbe inconcepibile. Ospedali non ne costruivano, ma corazzate sì, erano armati fino ai denti e la cultura collettiva era militarista. Voglio dire, tu prendi un libro per bambini di enorme successo, scritto da un gran bravo uomo, perfino un po' socialista, come De Amicis e non si parla d'altro che di battaglie, di tamburini, di quadrati di Villafranca, di cariche degli Ulani, di bambini eroi che muoiono in un modo o nell'altro in guerra per il loro paese. Allora questo si insegnava agli scolari e ai bambini insegnavano, come dire, a salutare quando passava la bandiera in testa ai reggimenti e le famiglioni andavano a sentire la musica del reggimento la sera ai giardinetti. Quindi divise servizio militare lunghissimo, due anni, tre anni di servizio militare, no? Ecco, orgoglio collettivo per il varo della nuova corazzata, ecco. Tutto questo non c'era invece, mi sembra, nei decenni di fine Novecento e di inizio Duemila, ecco. Quindi questa è una differenza molto grossa, mi pare, che dici? Sì, mi ricordo tanti paralismi, un po' come quando i tedeschi invadono la Russia, no? Entro due mesi saremo a casa, c'è sempre questo non detto che non funziona mai. Però alcuni lo avevano capito, ad esempio Norman Engel, o Engel, anche in cui il pericolo, insomma, aveva capito che le nubi all'orizzonte stavano arrivando anche perché vedeva ovviamente il riarmo, che era enorme. La stessa Germania spendeva il 20% del PIL solo per mantenere la flotta e il resto. Quindi c'era una grande illusione, anche se si sapeva, della corsa alle armi. Ecco, qualcuno ha trovato una soluzione a tutto questo, almeno si credeva di aver trovato una soluzione. L'interdipendenza economica, secondo te, è stata sopravvalutata come mezzo per favorire la diffusione del benessere? Citando Montesquieu, no? La buona, il buon commercio, no? Che io, fra l'altro, mi ricordo anche Von Clausewitz, lo citava in Von Krieg e la definiva come la soluzione ideale anche alla guerra. Ci siamo illusi anche su questo? Guarda, in realtà, diciamo che la modernità ha rappresentato dapprima un netto peggioramento da questo punto di vista. E mi spiego. Nel Medioevo e nel Rinascimento, i governi, non dico sapevano benissimo, diciamo, erano persuasi che il commercio è una cosa utilissima per tutti e non dovrebbe interagire con la guerra. E quindi, quando due paesi si facevano la guerra, i mercanti continuavano ad andare avanti e indietro e commerciare lo stesso. E in linea di massima, nei limiti del possibile, nessuno li toccava. Perfino durante le crociate. Durante le crociate, quando i musulmani di Saladino hanno appena riconquistato gran parte del Regno di Gerusalemme, arriva a Tiro, mi sembra, una galera genovese che porta a bordo dei rinforzi per i crociati, comandati dal marchese Corrado di Monferrato, che ha grandi ambizioni di diventare re di Gerusalemme. Quindi, questa galera cristiana, carica di guerrieri crociati, arriva sulle banchine del porto di Tiro, convinta di trovare la città in mani cristiane. Nessuno li ha informati che è caduta pochi giorni prima la città. E con un cera al telefono, no? Esattamente, esattamente. Arrivano alle banchine, guardano, dico, ma guarda che qui sono i saraceni. E già, ci sono i saraceni di guardia sulle banchine. Ma che facciamo? Un attimo di ragionamento, presenza di spirito estrema, e quando arrivano i doganieri a vedere che cos'è questa galera, palesemente cristiana, palesemente genovese, quelli di bordo dicono, siamo pacifici mercanti. E le guardie del Saladino dicono, va benissimo, passate, non c'è il minimo problema. Mica facciamo la guerra ai mercanti, siamo mica scemi. Episodi del genere si ritrovano anche durante le guerre, per esempio nel Cinquecento, con l'impero ottomano. Ci sono episodi in cui, di fronte appunto a problemi di questo tipo, sequestri o non sequestri di navi, ecco, il soltano a un certo punto dichiara, ma noi non facciamo la guerra ai mercanti. I mercanti a noi fa piacere che vengano. Quindi, una volta erano capaci di fare questo. La modernità ha progressivamente invece escluso questo tipo di cose, no? E allora a quel punto, ecco, che mentre prima guerra e commercio potevano coesistere, dopo nasce l'alternativa come l'hai presentata tu adesso, no? Cioè, se vogliamo commerciare non dobbiamo farci la guerra. E allora, forse il commercio universale è la soluzione, è la speranza per il futuro, però è anche un'illusione quando si dice le economie sono così interdipendenti ormai che le guerre non si potranno più fare. Norman Angel, che tu citavi prima, no? Autore appunto della grande illusione, che non è soltanto un film che noi abbiamo visto e magari non tutti quelli che ci seguono l'hanno visto, perché ormai, ecco. La grande illusione è il titolo di questo libro, uscito alla vigilia della prima guerra mondiale, in cui Angel diceva una cosa giustissima, e cioè, vi state tutti armando per la prossima guerra, ma sappiate che se arrivasse davvero sarebbe una catastrofe e nessuno uscirebbe vincitore. E poi diceva anche una cosa che invece era un'illusione, e cioè diceva, se non sbaglio, comunque state tranquilli, perché secondo me questa guerra che tutti state preparando non la farete, perché le economie sono troppo interdipendenti. E in effetti nell'Europa del 1914 si girava dappertutto senza passaporto, c'era praticamente la moneta unica, perché il franco e la lira avevano lo stesso identico valore, cioè erano cose che facevano pensare appunto già alla gente di allora, ma figuriamoci, l'economia salterebbe, e invece si sono beccati la prima guerra mondiale, non so se mi spiego, ecco perché anche oggi, come dire, è un'illusione, pensare che siccome le economie sono interdipendenti, semmai bisogna sapere in che misura le economie interagiscono con la guerra e con le sue conseguenze, con le sue aspettative, uno dei grandi problemi, che se io fossi uno studioso del Novecento avrei cercato di studiare, siccome sono un medievista, non ho mai cercato la soluzione di questo interrogativo, che però un pochino mi angustia, devo dire, e cioè, perché le guerre fanno benissimo all'economia degli Stati Uniti e malissimo a tutti gli altri? Io non ho mai capito questa cosa, ma fatto sta che è successo così nella prima e di nuovo della seconda guerra mondiale e sta succedendo adesso. L'appoggio a questa guerra in Europa orientale a quanto pare per l'economia americana fa benissimo. Perché a loro sia noi no? Non lo so. Tu forse lo sai però. Quando non viene colpito nel tuo territorio è più facile, diciamo, guadagnarci anche sulla ricostruzione. Ma neanche noi siamo colpiti nel tuo territorio. Dai, su. Noi abbiamo dei, diciamo, dei problemi divergenti, ecco, rispetto, degli interessi divergenti rispetto agli americani. Ne siamo colpiti più nel vivo. Però diciamo, proprio l'economismo americano di un'economia così poco statalizzata e che al tempo stesso però invece riceve robuste iniezioni di capitale pubblico quando si tratta di costruire armi, a suo modo è un modello vincente. se devi supporre di essere un paese bellicoso che ogni tanto fa la guerra, ecco. A loro non è mai costato niente fare la guerra in termini economici, a quanto sembra. Mi esprimo molto superficialmente perché, ripeto, sono cose per sentito dire, però l'impressione è quella e anche oggi dai commenti sembra che, come dire, a loro non crea i problemi alimentare questa guerra in corso mentre le economie europee sì. Beh, l'unica guerra che hanno subito è quella civile in territorio loro. Quindi ne hanno, diciamo, una memoria un po' più lontana rispetto a noi dal mio punto di vista. Li tocca di meno. Sì, sì, certo. Diciamo che quegli anni lì sono ridiventati attualissimi adesso con la facenda delle statue, no, eccetera. Quella è una storia particolare dal mio punto di vista è che è stato permesso praticamente al sud di raccontarsi la storia un po' come gli pareva. E quindi ora devono, diciamo, ritornare un po' sui passi del racconto della loro stessa storia che è un caso abbastanza unico, no, credo, dove allo sconfitto è stato permesso di raccontare come voleva la sua parte di storia. E ora, ovviamente, le cose vanno un po' a collidere. Ecco, gli manca un po' una storia unificata in un certo senso. In realtà quella storia lì era unificata nel senso che la versione suddista era diventata, come dire, mainstream fondamentalmente. Io ti devo anche dire che fino a qualche anno fa, facendo il paragone con le spaccature che ci sono ancora in Italia sugli anni dell'unità d'Italia, Borboni e Savoia, ecco, cioè vicende degli stessi identici anni, guardando gli Stati Uniti, io fino a qualche anno fa avrei detto, ma ragazzi, ma vi rendete conto come sono stati bravi? Hanno avuto una guerra civile spaventosa che ha fatto 600.000 morti, che ha straziato una parte del paese, che è durata anni e anni, e poi sono stati capaci di risolverla dicendo tutto sommato quelli che hanno perso è stato un bene che abbiano perso e però sono stati degli eroi anche loro e li onoriamo e i loro discendenti possono essere fiori. A me, ti devo dire, sembrava una soluzione meravigliosa. Chiaro che non teneva conto della popolazione di colore, dei discendenti, degli schiavi e del loro punto di vista, però è anche chiaro naturalmente che tu dici gli hanno permesso di raccontarsi la storia come volevano. Ognuno si racconta la storia come vuole e le storie collidono sempre. È come il discorso di Colombo. Se tu riconosci finalmente che Colombo è stato un malvagio colonizzatore e che ha provocato appunto tragedie umanitarie, eccetera, e butti giù le sue statue, ferirai profondamente un pezzo di popolazione americana, gli italo-americani, che anche loro sono stati discriminati e oppressi e che anche attraverso il culto di Colombo hanno recuperato una dignità, un'identità e così via. Questo non è mai un gioco a somma zero, o meglio lo è, cioè quello che guadagni da una parte infliggi danno a qualcun altro. Sai cosa è interessante? Questa diatribe è uscita fuori anche in serie pop. I soprano tirano fuori questa cosa di Colombo e gli dici ma papà guarda a scuola ci hanno insegnato che è così lui non t'azzardare a parlare male di Colombo un eroe italiano. No, no, di fatti i soprano sono già di 25 anni fa e tuttavia appunto il problema si pone ancora adesso perché comunque gli italo-americani sono integrati ma fino a un certo punto ai vertici della società americana ci sono ancora dei problemi rispetto ad altre comunità e col fatto invece delle statue dei generali sudisti ecco io non so non conosco abbastanza gli Stati Uniti per dire se è un baratto conveniente dire adesso invece riportiamo in auge al centro di tutto il tema della schiavitù e quindi tutto il sud lo condanniamo per avere invece di dire come si è detto per tanto tempo combattevano per salvare il loro modo di vita per salvare no 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 combattevano per la schiavitù quindi erano dei brutti bastardi tu adesso dici questo a una dozzina o una quindicina di stati degli Stati Uniti se i giovani ormai se ne fregano di queste cose va bene va tutto bene se non se ne fregano ne verranno fuori poi di nuovo quelli che andranno ad attaccare il Campidoglio sventolando bandiere confederate ecco spesso ci si stupiscono di questa America profonda che in realtà queste radici ben radicate in questa storia e un po' ci svegliamo in certi casi Trump è quella cosa per esempio l'aveva capita proprio parlando di diciamo cose che portano a noi o diciamo errori precedenti non troppo stati sviscerati nel tempo quanto conta secondo te l'eredità di Versailles degli accordi Sykes-Picot e di Yalta ancora oggi perché secondo me parte dei problemi che sono nati in quel periodo sono nati proprio anche in parte al principio di autodeterminazione dei popoli che spesso venne esercitato a macchia di leopardo e usato anche da qualcuno per mire diciamo espansionistiche io dico spesso questa battuta sul mio canale metà dei problemi del mondo li ha causati in inglese tracciando una mappa una linea sulla mappa dicendo imparate a conviverci non so se sei d'accordo no no in altra parte però le linee sulle mappe ci vogliono beh i casi che hai citato sono tutti importanti però diversi nel senso che Versailles mi sembra che sia ormai come dire opinione comune degli storici il fatto che sia stata o no una pace iniqua per i tedeschi sconfitti però sicuramente è stata percepita da loro come una pace iniqua e allora a questo punto mi importa anche poco stare a decidere sì però in fondo non era veramente iniqua sta di fatto che i tedeschi cioè una grande potenza nel centro dell'Europa hanno percepito quella pace come iniqua e devo anche dire che poi diciamo non voglio farmi fraintendere però lo dirò lo stesso Hitler ha screditato per sempre le rivendicazioni che i tedeschi potevano avere tra le due guerre usandole cinicamente per costruire diciamo un rilancio continuo sotto al quale stava se non il dominio del mondo però certamente l'espansione a est il drangnachost nello spazio vitale e quelle cose lì e quindi noi tutti che siamo nati dopo abbiamo sempre dato per scontato che fossero burlette e stupidaggini il fatto che c'era la popolazione tedesca nei sudeti o che Danzig era una città tedesca ma non appartenente alla Germania guardi lo dico da contemporaneista in realtà Hitler sulla questione dei sudeti teoricamente aveva ragione c'era una grandissima maggioranza di tedeschi in quella zona lì quindi eh appunto appunto c'erano poi appunto diciamo dato che è venuto che Hitler l'ha sfruttata allora appunto il fatto che Hitler volesse i sudeti è sempre apparso semplicemente un'altra prova della sua bestiale ma invece oggi tutto sommato uno dice beh però certo avere milioni di tuoi connazionali sotto un altro governo dentro un altro stato e loro percepiscono di essere oppressi poi andrebbe sempre visto naturalmente quanto percepisci quanto è davvero però queste questioni di la tua lingua è una lingua ufficiale dello stato oppure non lo è c'è la scuola e i giornali la tua lingua non ci sono sono cose che anche adesso hanno una strettissima attualità naturalmente ecco quindi Versailles sicuramente mi pare che si possa dire chiedo conferma al contemporaneista che insomma io non so se si poteva far meglio però sicuramente Versailles ha prodotto un'Europa instabile e ha prodotto Hitler alla fine certo non c'è dubbio sai quella è la cosa che mi ha colpito di più sulla storia di Versailles che ancora oggi se tu vedi quello che dice Macron o Macron se lo vuoi pronunciare bene quando si parla italiano onestamente la cosa che mi ha fatto abbastanza specie sentire quando parlava della Russia e diceva attenzione a non umiliare la Russia che a me mi ha subito riportato alla lezione fra la prima e la seconda guerra mondiale dove i francesi anzi volevano umiliare la Germania sembra che invece questa volta gli stessi francesi quelli che erano intransigenti dopo la prima guerra mondiale ora invece quella lezione l'hanno un po' capita di non creare il mito della Dolstoss le lezioni ogni tanto si imparano poi dopo un po' si dimenticano naturalmente bisogna sfruttare al massimo quel periodo in cui l'hai imparata e non l'hai ancora dimenticata tutto sommato Sykes-Picot è ancora un'altra cosa in effetti immagino che chi si occupa di geopolitica queste cose le mangi a colazione a pranzo e a cena se ci fosse qui Lucio Caracciolo potrebbe parlartene per ore io però devo dire che non ho la sensazione che ci sia un grande dibattito nell'opinione pubblica più generale o una grande consapevolezza del fatto che stati come la Siria o l'Iraq sono stati fabbricati tirando una linea con righello sulla mappa con risultati catastrofici come poi si è visto né si parla della stessa cosa per gli stati africani ma anche lì ci sarebbe perché dell'Africa non si parla non importa niente a nessuno dai cinesi e un po' i francesi ma per i russi e ai russi certo i quali anche loro a certe lezioni le imparano naturalmente stando con i cinesi pian piano impari le cose l'Africa e il Medio Oriente sono stati come dire trasformati in una parodia dell'Europa con confini statali ben precisi facendo finta che corrispondessero anche a identità nazionali perché all'epoca la moda era quella e in realtà producendo delle cose ingestibili periodicamente lo si scopre e si strappa i capelli e amene poi si va avanti lo stesso certo quanto a Yalta Yalta è discutibile perché anche lì è il bicchiere mezzo vuoto o è il bicchiere mezzo pieno? il bicchiere mezzo vuoto è il fatto che dopo Yalta un certo numero di paesi dell'Europa orientale sono stati soggiogati dall'Unione Sovietica e nei primissimi anni essere soggiogati dall'Unione Sovietica di Stalin non è stato certo piacevole dopo le cose sono in parte cambiate però comunque in ogni caso è chiarissimo che in quei paesi è stata vissuta con insofferenza come minimo ecco l'Unione all'Unione Sovietica nel caso dei paesi baltici o l'obbligo di appartenere al patto di Versavia nel caso degli altri paesi ha lasciato un'eredità politica pessima tutto questo fra l'altro uno dei grandi fallimenti dell'Unione Sovietica è che si scopre che la cultura politica nei paesi ex sovietici è a livello infimo c'è un livello di nazionalismo di memoria storica distorta di ostilità verso i propri vicini spaventoso in tutti quei paesi ecco quindi questo certo il bicchiere mezzo pieno però è la belle epoca di cui parlavi tu perché comunque 60-70 anni finora di pace in Europa tranne le margine buttali via e quindi lì diventa molto difficile il fatto è che noi naturalmente da storici dovremmo come dire analizzare queste cose un po' più freddamente e invece visto che sono cose che condizionano così tanto ancora il mondo in cui viviamo noi oggi è inevitabile poi che venga fuori il fatto che uno pensa che in fondo gli altri è stata una grande idea però non andrei a dirlo a un amico polacco naturalmente ecco io sono mezzo polacco quindi no ma giustamente io ricordo sempre perché a popoli sottomessi come la Polonia e altri non era stato neanche permesso di studiare la propria storia la battaglia insomma il miracolo della vistola non veniva celebrato proprio perché era pericoloso no? era una grunwaldane esatto queste cose e quindi è abbastanza interessante vedere come si ottenne poi l'effetto opposto paesi che bene o male stavano sotto un pan slavismo ora dal punto di vista dei russi dovrebbero stare sotto un pan russismo quindi sta diventando sempre più ristretta anche questa visione del mondo quello che mi interessava applicato l'agganciamento su Yalta era il discorso era una il mondo che è uscito da Yalta era una fotografia dell'epoca che bene o male ci siamo portati fino ad oggi parte con la dissoluzione insomma dell'unione sovietica però il sistema che è stato messo in piedi all'epoca è quello che ci ritroviamo ancora oggi e io al netto di quello che sta succedendo ora con questa guerra quando finirà non credi che andrebbe un po' rivisto il sistema internazionale il sistema dei veti permanenti nel consiglio di sicurezza queste cose perché poi abbiamo visto che i due attori principali americani e russi bene o male proprio avendo questo potere di solito fanno cose che vanno in palese contrasto con il sistema stesso visto che hanno degli interessi loro quindi visto che quella era una fotografia di un sistema vecchio che funzionava funzionava con un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto per il 45 tu credi che debba essere tutto riformato al netto degli errori fatti precedentemente dagli americani e ora dai russi però attenzione perché non mi è del tutto chiaro che cos'è che tu vorresti riformare nel senso che quando dici una fotografia del mondo come era allora e beh il mondo non è già più come allora in modo vistosissimo e cioè mentre una superpotenza americana con una forte capacità di controllo su un pezzo di mondo continua a esserci dall'altra parte non c'è più niente del genere il blocco sovietico non c'è più non c'è più neanche l'Unione Sovietica la Russia è una frazione di quello che era l'Unione Sovietica c'è la Cina certamente ma la Cina per carità nel 45 era uno degli alleati quindi per cortesia le hanno dato un certo ruolo ma non contava niente nel mondo quindi diciamo il mondo è già cambiato totalmente del sistema di Yalta quello che sopravvive è l'ultima cosa che tu hai citato adesso e cioè il Consiglio di Sicurezza dell'ONU che non mi pare abbia nel mondo quell'importanza tale che uno debba proprio dire non possiamo più permetterci questo avanzo di anzien regime io andrei a modificarlo ricorda la società delle nazioni che non ebbe troppa fortuna esattamente cosa proporresti di modificare il Consiglio di Sicurezza dell'ONU è una rivisitazione diciamo del sistema di potere non basato più sulle potenze ma diciamo più su uno stato equanime perché c'è anche l'India che sta emergendo insomma certo no ma in carità si potrebbe abolirlo e trasformare l'ONU in una cosa che prende decisioni a maggioranza senza diritto di veto di nessuno io sospetto che avremo delle grandi sorprese peraltro io credo guarda sono un uomo del mio tempo ovviamente ragiono con le categorie del novecento e faccio fatica a immaginare che cose migliori possano sostituire certi meccanismi che bene o male hanno avuto un ruolo nell'evitare la catastrofe fino ad oggi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU è certamente un organismo abbastanza assurdo nel senso che se uno dovesse spiegare a un marziano perché è fatto in quel modo lì ma da storici io che sono un medievista forse ho ancora più di te che siete franeista ma da storici sappiamo benissimo che i lasciti del passato anche quando apparentemente sono superati però prima di andarli a toccare bisogna fare attenzione perché poi c'è anche un'eterogenesi dei fini devi sapere molto chiaramente cosa stai facendo secondo me è meglio i lasciti del passato gestirli con saggezza e fare in modo che continuino a servire a quello che devono servire e quindi in quel senso perfino il Consiglio di Sicurezza dell'ONU di cui non mi azzarderei mai a dire che è come dire risponde agli equilibri mondiali attuali eccetera però io avrei una grandissima diffidenza verso chiunque volesse andarlo a toccare senza dirmi con la massima precisione che cosa vuole fare invece ecco ok sei un po' pessimista nel senso a tavolino è meglio non a tavolino è meglio non poi ci sono come dire i grandi cambiamenti arrivano lo stesso nel bene e nel male ma le ingegnerie ecco è anche un po' un'altra caratteristica adesso divago ma è un po' una caratteristica della nostra epoca che ha prodotto tanti esperti tanti manager tanti studiosi delle organizzazioni è un po' una malattia della nostra epoca il dare molta fiducia alle riorganizzazioni a tavolino ecco credendo che un'istituzione un parlamento un'università funzionerà meglio se qualcuno che se ne intende disegnerà un nuovo organigramma un nuovo equilibrio di poteri quando poi contano esclusivamente le persone che ci sono dentro e il modo in cui sono state formate e vengono gestite e non le caselline sugli organigrammi quelli servono per spartire il potere ecco ma non garantiscono un funzionamento migliore o peggiore prova ne sia che i grandi paesi occidentali hanno tutti costituzioni diversissime l'una dall'altra equilibri di poteri diversissimi l'una dall'altra e ciò nonostante si assomigliano come gocce d'acqua sotto molti altri aspetti ecco e quindi forse l'organizzazione formale non è la cosa più importante per capire come poi funzionano i meccanismi beh sono più insomma le similitudini che le differenze però da quello che capisco non ti piacerebbe una soluzione alla Kissinger che vorrebbe un congresso di Vienna o una cosa del genere i congressi di Vienna li puoi fare dopo aver sconfitto Napoleone adesso non c'è neanche Napoleone o meglio sì c'è gli Stati Uniti effettivamente una coalizione mondiale che sconfiggesse gli Stati Uniti invadesse gli Stati Uniti e piantasse la bandiera dell'ONU su Washington potrebbe poi convocare un congresso di Città del Messico dove riorganizzare il mondo ma voglio dire i congressi li fanno i vincitori dopo aver sconfitto un nemico mondiale che con tutta la buona volontà un nemico mondiale riconosciuto da tutti non mi pare che adesso ci sia se uno pensa in categorie mondiali e non occidentali anglofone ben inteso ecco vedendo la situazione tu vedi una ricreazione dei blocchi io vedo i BRICS vedo certi allineamenti lo sai noi storici abbiamo la tendenza a ragionare con i prototipi del passato io vedo una tendenza all'agglomerato di certi paesi che si stanno separando sempre di più nonostante noi abbiamo passato gli ultimi 30 anni spero avvicinandoci tra i paesi ora vedo una tendenza alla divergenza blocchi come può essere che so il Brasile l'Argentina l'India lasciamo perdere l'India e Cina che hanno problemi tra di loro però bene o male collaborano anche con la Russia io vedo la tendenza ai blocchi e non è una bella tendenza come quella a riarmo ovviamente beh oddio dunque ovviamente io devo fare una premessa quando ho accettato di fare questa chiacchierata non è che pensassi che mi avresti chiesto dei guelfi e degli ghibellini però attenzione perché come dire tu li stai trascinando su un terreno su cui io posso parlare come qualunque persona che ha il caffè chiacchierando con un amico o con un conoscente può dire ma secondo me quel Bolsonaro ecco ma però non è materia mia naturalmente certo sì ci sono si individuano alleanze però bisognerebbe capire cosa vedi tu nella parola blocchi perché se siamo eredi del blocco sovietico per esempio allora ti farei notare che il blocco sovietico veniva chiamato così da noi perché la parola blocco è antipatica ma di fronte aveva un altro blocco che aveva nomi più carini Nato del genere e quest'altro blocco non si è dissolto c'è sempre anzi grazie come dire alle esuberanze di Putin si è scoperto vitalissimo il blocco occidentale americano è nato e di conseguenza appunto non è che sia una fase superata poi i blocchi di recente qualcuno mi ha sgridato perché io essendo un bambino degli anni 60 continuo a dire il terzo mondo non bisogna più dire il terzo mondo va bene che non era un termine paesi in via di sviluppo quello sì che è dispregiativo quello sì che è vergognoso un eufemismo vergognoso perché in via di sviluppo alcuni sono ma altri no mica tutti i paesi del mondo sono allegramente in via di sviluppo mi pare quella sì che è un'espressione di cui mi offenderei se vivessi in certi paesi mentre il terzo mondo non era affatto nato in senso dispregiativo ma era proprio nato per dire ci sono i due blocchi e noi non vogliamo stare né con voi né con voi noi siamo un'altra cosa un terzo attore diverso da voi due insomma questo voleva dire per oggi pare che sia percepito come invece in qualche modo dispregiativo e allora non era bene io invece continuo a usarlo però voglio dire anche al tempo dei due grandi blocchi USA e URSS c'era il blocco dei paesi non allineati che spesso formavano un blocco io non mi stupirei insomma noi italiani ci siamo nati dentro un blocco dentro un'alleanza con le basi di un potentissimo esercito di una potentissima flotta sul nostro territorio straniera intendo dire sul nostro territorio e quindi non è all'ordine del giorno il dire ma con chi potremmo allearci tranne ogni tanto nelle ridicole beghe europee il dire no però la Spagna e il Portogallo e la Grecia stanno con noi ecco va bene ma questo però è normale paesi che non hanno un'eredità così pesante si guardano intorno e creano le loro aggregazioni e perché ci vedi qualcosa di preoccupante non lo so forse mi occupo troppo un po' di storia militare quindi quando vedo si cominciano a delineare diciamo allineare certi paesi comincio a farmi qualche domanda su quale sarà lo scopo finale di questo allineamento in questo senso di tenere testa a quelli che sono già nati allineati di cui noi neanche ci accorgiamo che sono allineati talmente ci sembra naturale e congenito che siamo allineati ecco qualcuno qui in chat ci chiedeva se riusciamo a trovare dei collegamenti tra il risorgimento italiano e quello che sta succedendo in Ucraina per loro credo che sia una specie di risorgimento un paese che non è creato diciamo abbastanza artificialmente da donazioni di Khrushchev e di Nikita insomma e ora c'è il paradosso secondo me Putin ha creato l'Ucraina allora sicuramente l'impressione che possiamo avere tu ne sai di più vedi anche delle fonti indipendenti io non seguo se non attraverso i nostri media quindi puoi immaginare cosa posso capire di quello che succede laggiù però sicuramente l'impressione che Putin abbia giocato sull'idea che l'Ucraina è abitata dagli ucraini e dai russi e che i russi non sono contenti di essere sudditi ucraini e che quando noi invadiamo il paese saranno tutti in massa dalla nostra parte questo si è rivelato un errore non sembrerebbe così ben inteso un fortissimo sentimento autonomista o filo russo c'era e c'è nell'Ucraina orientale tra i russi dell'Ucraina orientale però non è scattato nella dimensione in cui forse chi lo sa forse Putin poteva sperare che scattasse e in questo senso è possibile alla lunga che forse come dire si coaguli diventi più solida di prima un'identità ucraina anche per chi ucraino non è diciamo tra i cittadini di quel paese dove c'è di tutto naturalmente ci sono caucasi perché la gran parte della popolazione sta lì da quando quella era Unione Sovietica e la gente andava a vivere più o meno ovunque in base a dove ci portava il lavoro d'accordo quindi questo è possibile io francamente non ci vedo nessuna analogia con il risorgimento ma proprio nessuna 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 nel senso che l'identità italiana è sempre esistente al più tardi dal quattordicesimo secolo non c'è mai stato il minimo dubbio che gli italiani sono italiani tutti nord e sud ecco si sono sempre sentiti tutti italiani fin da allora come evidentissimo qualunque cosa uno legga ecco semplicemente questo paese non era un unico paese non era un'unica potenza dal punto di vista così appunto politico amministrativo erano tanti paesi diversi ma erano tutti italiani e l'Italia esisteva l'Ucraina è qualcosa di molto diverso in Italia c'è più omogeneità in Italia quindi non c'è questa poi l'Italia è un paese fatto di tante identità regionali e locali fortissime però ripeto contrariamente a quello che forse qualcuno crede nessuno al più tardi dall'epoca di Dante e Boccaccio ha avuto il minimo dubbio sul fatto che i veneziani sono italiani i napoletani sono italiani i milanesi sono italiani e non sono francesi non sono tedeschi e non sono spagnoli perché poi le identità si costruiscono anche in contrapposizione ecco allora in Ucraina in realtà il problema è che per molti secoli c'è stato un gioco delle potenze vicine o imperiali a seconda dei casi la Lituania poi la Polonia ma lo dico a te che lo sai benissimo ma lo dico ai nostri ascoltatori che magari non sono così ecco e poi naturalmente la Russia degli zar per negare che esistesse un'identità ucraina e questa cosa ha avuto anche un certo successo nel senso che è vero che tantissimi ucraini si sono sentiti come un tipo particolare di russi questo non ci può essere nei secoli non ci può essere nessun dubbio non è che uno avesse detto a Gogol tu sei uno scrittore russo e si sarebbe offeso era uno scrittore russo che scriveva in russo ed era ucraino e raccontava l'Ucraina certo cioè si giocava una partita per dire secondo me gli ucraini sono un tipo di russi così come i siciliani sono un tipo di italiani o invece altri dicevano no noi siamo un popolo però questi altri hanno cominciato a contare soltanto quando in Europa le parole d'ordine nazionalistiche sono diventate importanti da fine settecento in poi allora è chiaro che è diventato effettivamente uno scontro con due fronti quelli che volevano negare non un'identità ucraina perché quella è sempre stata ma affermare che gli ucraini erano russi però ecco e quelli che invece lo negavano l'Ucraina di oggi è un territorio come sapete estremamente composito perché ci sono zone che hanno una storia totalmente slegata da quella della Russia Leopoli con la Russia non ha mai avuto niente a che fare fino alla seconda guerra mondiale supponiamo certo gli ucraini che vivevano nell'impero austro-ungarico avevano un'identità anche linguistica sulle banconote austro-ungariche c'erano in dieci lingue vale tot corone c'era scritto in dieci lingue compreso l'ucraino che non era il russo e invece nella Russia degli zar la tendenza era di dire sì ma Kiev è una città russa ovvio Odessa è una città russa e lo erano anche Kharkov è una città russa e lo erano anche a loro modo ecco questa è una situazione mi sembra in cui queste identità sono rimaste contrastate controverse divise e sospese per molto tempo l'attuale Ucraina indipendente appunto comprende sia luoghi che sono sempre stati sentiti e pensati come russi sia luoghi che invece con la storia russa non hanno praticamente niente da spartire diciamo che il ciò che ha dimostrato di saper fare il governo dello stato ucraino per come dire risolvere questo problema è stato discutibile perché il problema si è avuto la tendenza a risolvere dicendo no siamo ucraini parliamo ucraino il russo non lo ammettiamo eccetera mi sembra che questa sia appunto una storia piena di rischi e di possibilità per il futuro ancora da concludere tutt'altro che conclusa ma molto diversa rispetto alla storia del risorgimento italiano ecco di pace dovremmo farlo firmare a Perejaslav che va a ritrovare delle cose io dico ma a volte fate anche delle uscite che non hanno molto senso anche molto tatto vedere dove si va a ripescare certe cose e certo l'ingresso della Svezia nella Nato lo firmeremo a Poltala a questo punto ecco non è una cosa molto saggia da fare in questo momento questo è un altro problema naturalmente per quel poco che mi sembra di capire e ripeto chiacchiero come si potrebbe chiacchierare così il professore di storia qui che sta parlando però da quel poco che mi sembra di capire i paesi dell'Europa orientale hanno un rapporto con la loro storia diverso dal nostro a noi in occidente della storia o non importa niente o ci importa solo quando possiamo scannarci su qualche cosa tipo appunto resistenza e fascismo oppure aveva ragione Montanelli quando diceva parlando con suo vecchio amico Ugo Ietti dicendo che noi siamo un popolo senza senza memoria perché assolutamente sì che non dimentichi di contemporanei no? ma allora che va anche bene quando invece vedi come nei paesi dell'Europa orientale io non li conosco bene quale più quale meno però la sensazione ti chiedo conferma è che un po' in tutti quei paesi invece la storia sia storia anche recente specialmente quella recente del novecento poi quando è possibile si può tornare anche appunto ai cosacchi ecco ai cosacchi di Zaporoge ma in generale la storia specialmente del novecento con la sua somma terrificante di atrocità che in quelle zone non ha avuto nessun confronto possibile con quello che è successo qua e in cui nessuno è innocente nel senso di poter dire noi siamo un popolo che non ha fatto male a nessuno ecco giusto gli ebrei probabilmente possono dire quello gli altri non c'è nessuno che possa dire questo e la sensazione è che in quei paesi questa storia recente sia fortissima nel costituire l'opinione pubblica il senso di identità ed è una tragedia perché la memoria in tutti quei paesi se uno va alla ricerca della memoria di torti subiti e atrocità subite ne trova finché vuole dopodiché a scuola fai studiare quelle cose lì e i monumenti nelle piazze li metti agli eroi tuoi e di tutte le atrocità che tu invece hai tu il tuo popolo ha commesso anziché subirle su quello neanche una parola a me sembra che tutti questi paesi rischino un po' di trovarsi in questa situazione e allora tutto sommato forse meglio l'Italia dove nessuno frega niente del passato ecco questa è una cosa che io qualche volta ho detto forse la nostra fortuna come paese è di essere molto giovani perché invece questi paesi hanno una memoria di paese molto lunga molto profonda e il problema soprattutto della parte orientale dell'Europa è che tutti questi problemi che risalgono al 1500 al 1600 continuano a portarseli sopra non li risolvono mai si accumulano si accumulano si sedimentano e poi improvvisamente vengono fuori basta vedere quando mai noi abbiamo sentito un presidente italiano andare a citare che so lei panto una cosa invece di là le citazioni storiche si sprecano da Putin a Zelensky a Duda tutti hanno ragione perché tutti citano cose vere però citano solo quelle naturalmente solo quelle che servono a loro in quel momento che galvanizzano il loro popolo noi italiani questa cosa in realtà l'abbiamo un po' aggirata perché un pochino sui confini orientali d'Italia una situazione potenzialmente simile c'era non a caso siamo ai confini con i Balcani dove appunto anche lì il discorso è un po' lo stesso credo gli italiani cioè diciamo oggi si strumentalizza politicamente le foibe e i profughi e così via in passato si preferiva parlarne poco proprio per evitare strumentalizzazioni o imbarazzi ma la verità è che noi italiani nei Balcani e nel Mediterraneo orientale fino alla Grecia e a Creta e a Cipro noi nei secoli abbiamo giocato un ruolo di popolo imperiale paragonabile a quello che hanno giocato i tedeschi e più tardi in parte i russi in Europa orientale il popolo imperiale è quello che è come dire oggettivamente più forte più sviluppato con un'economia più forte militarmente più forte e quindi va occupa e costruisce città e le riempie dei propri mercanti e costruisce fortezze e le riempie dei propri soldati e la popolazione locale è composta di contadini analfabeti viene mantenuta nell'analfabetismo perché tanto tanto è una razza inferiore o comunque una civiltà inferiore una lingua che è inutile scrivere ecco poi la storia nel novecento ha chiesto il conto ai popoli imperiali qualcuno l'ha già pagato fino in fondo i tedeschi mi sembra che l'abbiamo pagato fino in fondo con la perdita di vaste regioni che per tanti secoli sono state tedesche con la perdita di tante meravigliose città che erano città tedesche Braga era una città tedesca Tallinn era una città tedesca e mi sembra che l'odio e la paura verso i tedeschi adesso siano in ribasso tutto sommato i russi il conto non l'hanno ancora pagato invece perché siamo ancora nel pieno delle conseguenze della dissoluzione dell'impero russo poi traslato in unione sovietica e quindi l'odio e la paura dei piccoli popoli perdonami se metto anche i polacchi fra questi ma in proporzione rispetto ai russi insomma rispetto ai russi oggi lì è prevalente sui confini orientali dell'Italia eravamo noi italiani a avere quel ruolo lì credi che ci sia andata bene nel senso sono stati colonialisti ma lo siamo stati talmente male che in fondo non ne abbiamo pagato lo scotto io spesso racconto il trattato di Ucciali l'invasione dell'Etiopia il dodecaneso certo ma in Grecia ci è andata ancora bene i greci ci trovano simpatici nonostante tutto che pure avrebbero mille motivi anche lì fu un'illusione perché noi si invase e c'era proprio l'idea che saremmo stati accolti anche noi come liberatori invece insomma tutte le informazioni che giravano erano in senso contrario ricordiamoci i proclami greci che dicevano proprio in realtà sembrerebbe io ho letto qualche cosa su questo a Rodi nel dodecaneso a Corfu in quei posti lì l'amministrazione italiana dell'epoca fascista era abbastanza apprezzata dagli abitanti cioè ci sono libri che oggi vanno a intervistare i vecchi i quali dicono ma se gli italiani erano gente in gas allora la cosa buffa è questa che hanno questa percezione che hanno anche un po' gli albanesi degli italiani come gente efficientissima super moderna che quindi per carità però giusti organizzatissimi e appunto dal loro ricordo viene fuori questo loro avevano conosciuto l'amministrazione ottomana e in qualche caso quella greca degli inizi che non era tanto diversa probabilmente ecco quindi in Grecia forse certo sa di fatto che anche in Slovenia o in Croazia non hai la sensazione che la gente ti dica sei italiano non mi piaci ecco quindi c'è andata bene certo c'è andata bene tranne a quelli che sono rimasti presi negli ultimi tra il 43 e il 45 e poi negli anni dopo quando sono stati costretti se ne parla anche poco ci fa l'ora insomma quello che è successo certo quello è andata male sul serio però ripeto è un conto che tutti i popoli imperiali in un modo o nell'altro hanno dovuto pagare o cominciare a pagare mi sembra no? sì in Italia ovviamente chi ha fatto un grandissimo lavoro in questo senso del Boca è uno dei maggiori italiani brava gente ma ha detto in senso in senso un po' certo eppure anche lì anche lì in realtà come dire noi abbiamo commesso sicuramente atrocità in Libia in Etiopia e tuttavia il colonialismo ha lasciato dappertutto dei legami comunque l'Italia essendo una piccola potenza non li ha mai sfruttati più di tanto ecco per un po' abbiamo mantenuto qualche dittatore in qualche Somalia perché era stato sergente dei carabinieri da giovane e poi dopo mi pare che abbiamo abbandonato del tutto alcuni paesi i quali invece come dire potevano per un po' hanno avuto una classe dirigente che parlava italiano e studenti che studiavano in università italiane poi ce li siamo giocati lì il punto è che appunto il colonialismo una volta ammesso che ovviamente è stata una cosa che la storia ormai si è lasciata alle spalle in quella forma e che di atrocità se ne sono commesse finché si vuole però ha anche lasciato dei vincoli che contano che esistono che non sono necessariamente di soltanto di odio verso l'ex potenza coloniale invece fra paesi europei nei Balcani o in Europa orientale lì una volta che i popoli non imperiali nell'ottocento si sono risvegliati hanno avuto i loro scrittori i loro intellettuali i loro musicisti i libri scritti nella loro lingua questi qua non avevano più niente da imparare dai popoli imperiali e quindi chiaramente non avevano nessuna nostalgia e nessun motivo di conservare una simpatia nei loro confronti quindi c'è ancora una differenza credo sì mi sono stupito perché raccontando anche cose come Deborah Libanus insomma quello che faceva a Graziani dalla Cirenaica all'Etiopia però mi sono stupito quando avendo ospiti dei militari italiani mi hanno detto si è presentato un signore molto anziano in Somalia avrà avuto più di 80 anni ed è venuto in uniforme d'ascaro coloniale a salutare gli italiani quello è sempre stato un po' un mito come tutti i miti avrà un fondamento di verità nel senso che quelli che facevano il soldato negli ascari e prendevano il loro stipendio e si affezionavano al signor tenente naturalmente quelli conservano un buon ricordo è anche vero che insomma per esempio nella mitologia neoborbonica i meridionali che negano i miti borbonici vengono chiamati ascari quelli che si sono schierati con i padroni diciamo così chiama ogni realtà è complessa in ogni realtà si trova di tutto naturalmente il nostro compito è di andare a vedere quali sono le posizioni più orientative più diffuse più proiettate verso il futuro e in questo senso in quei paesi lì ci sarebbe voluto una politica grossa di investimenti e di intervento italiano ecco se volevamo conservare dei legami mentre non mi pare che si sia fatto tanto lo ha fatto certo molto di più la Francia per esempio ecco nelle sue colonie ecco venendo insomma a quello che succede intorno a noi perché c'è sempre questo non detto lo storico si deve occupare solo della storia in realtà Mark Bloch si guardava anche in giro te l'hai raccontato benissimo due guerre Mark Bloch naturalmente noi per fortuna invece finora ci è andata bene però ogni tanto io ricevo delle frasi tipo se non hai fatto il militare non puoi parlare di storia militare che a me ricordano certe cose tipo se non sei vissuta l'epoca di Napoleone non puoi parlare di Napoleone però Mark Bloch raccontava insomma della storia della marmellata che è un esempio classico cioè da quand'è si è posto il problema da quand'è che si fa la marmellata perché lo zucchero una volta era costoso si portava solo con la canna da zucchero insomma si portava dall'altra parte del mondo quindi ogni tanto soprattutto parlando col professore Aldo Giannulli lui si occupa ogni tanto di cose diciamo più odierne si pone dei dubbi su da quand'è che abbiamo adottato questo sistema e quindi qui venivo alla parte più giocosa insomma di questa live che ti riguarda personalmente come vedi il fenomeno dei meme delle canzoni dedicate a te vanno oltre e ti divertono te lo sai che fra vent'anni e forse già adesso come si parlava anche in prelavi ci sarà qualcuno che studierà questo fenomeno per vedere come anche gli storici hanno avuto un impatto culturale sull'Italia perché tu lo stai avendo questo è tutto da vedere misurare gli impatti culturali è una cosa difficilissima come sai bene detto questo io distinguerei i meme le canzoni gli imitatori i fumetti e tutte queste cose qua di cui ho conoscenza soltanto parziale perché non vado a cercarmeli però ogni tanto quando qualcuno mi manda proprio una mail dicendo hai visto questo allora magari effettivamente te ne faccio vedere qualcuno perché però hanno un impatto culturale perché ci sono un sacco di persone che letteralmente ti citano con frasi andiamo a bruciargli la casa è diventato un leitmotiv e tanti altri una volta l'altra per questo ma comunque vabbè però ecco guarda sai Mirko queste cose qua mi divertono molto quando sono puramente scherzose e giocose sul fatto di professor Barbero guidaci a fare la rivoluzione è una cosa che da un lato mi onora dall'altro un po' mi preoccupa e non è soltanto uno scherzo anche perché ci sono alcuni che l'hanno preso nel senso anche come simbolo di sfida frasi di sfida andiamo a bruciargli la casa non so nemmeno per cos'era quella manifestazione per dare un'idea è una citazione da una fonte diciamo dell'epoca della rivolta dei cionpi ma comunque sì sì no questo è significativo poi come dire chi rappresentano queste cose quanto le cose che passano online siano rappresentative di qualche cosa di vasto è uno dei problemi naturalmente però finché sono queste cose qua mi va benissimo francamente l'idea che in futuro ma non soltanto in futuro perché già adesso capita qualche ponderoso trattato in cui per parlare dell'influsso della storia sull'opinione pubblica vedo citato un certo Alessandro Barbero ecco i ponderosi trattati onestamente mi piacciono già di meno ecco mi sento già un po' più in imbarazzo essere come dire trasformato in citazione ecco o in esempio da studiare però toccherà anche questo va bene ma però non voglio dire sì senza di me comunque fatelo ma non voglio saperne niente alcune sono molto utili nel senso sfatano anche dei miti lo Iuspremenoctis è stato probabilmente debancato diciamo se vogliamo usare un termine moderno un po' da te in Italia all'altro ad esempio basta con la leggenda del terrore dell'anno 1000 nonostante tutto il tuo modo di fare anche divulgazione di porti se hai una passione enorme quindi arriva alla gente rimangono queste cose gente che magari non sapeva nulla dell'anno 1000 si ricorderà sempre quella tua frase e sa che bene o male quella cosa lì non è veritiera sì dopodiché la cosa mi fa piacere non è che abbiamo cambiato la storia del mondo naturalmente con questo però no no per carità per noi medievisti è un problema particolarmente sentito perché uno che studia storia antica non sente continuamente luoghi comuni negativi sull'epoca che studia naturalmente quindi noi medievisti invece questa cosa l'abbiamo sempre sentita un po' ci ha sempre dato fastidio fino alla generazione dei miei maestri non c'era niente da fare sì qualcuno ogni tanto scriveva un articolo su un giornale ma finiva lì è soltanto la mia generazione che per la prima volta si può confrontare con un mezzi di comunicazione a vastissimo raggio e in quel senso per un medievista sì non è del tutto irrilevante il cercare di far passare alcune correzioni più che altro perché sai in parte è semplicemente l'amor proprio io non studio un'epoca orrenda barbara atroce e così via oscura perché a me la media ancora dicevano che il medievo era oscuro un po' un po' è un senso di fedeltà diciamo di rispetto verso quella gente cioè la gente che viveva nel medioevo era gente diversa da noi in molte cose ammirevole da molti punti di vista è degna di rispetto esattamente come noi abbiamo imparato che se ci sono civiltà diverse dalla nostra culture diverse dalla nostra non è che l'esploratore arriva e immediatamente abbatte l'albero sacro e costruisce la cappella protestante ecco magari no magari rispetti quelli che hanno un modo di ragionare diverso dal tuo e io sento molto fortemente questa cosa che anche la gente del passato merita di essere rispettata allo stesso modo e quindi questo lo faccio effettivamente con una certa consapevolezza ecco di dissipare questi miti non erano così cretini i nostri antenati da vivere in un mondo dove c'era una legge come lo Iusprimenoclis e pensare che esseri umani possano accettare una roba simile vuol dire non avere ben idea di chi sono gli esseri umani e invece l'unica cosa per cui serviamo noi storici è di aggiungere anche noi la nostra insieme ai sociologi agli antropologi a tutti quanti anche noi contribuiamo a farvi capire che roba sono gli esseri umani ecco ecco io spesso cerco di trovare anche delle cose parallele per capire il medioevo ad esempio nel mio piccolo una cosa che ho trovato molto interessante è andare a trovare alcuni canali su youtube inglesi dove raccontano il cibo che veniva mangiato nel medioevo e la prima cosa che mi ha colpito è ad esempio che mangiavano salmone mangiavano aragoste invece fino all'inizio del novecento aragoste erano considerate gli scarafaggi dell'oceano e quindi c'è questo cambiamento completamente assurdo dove uno si aspetta di solito nei film nelle cose l'uomo medievale che mangia le patate mangia veramente poco le patate no perché arrivano dopo però ci siamo capiti mangiavano veramente male e invece veniva fuori che mangiavano salmone che mangiavano aragoste e che fino al novecento erano considerate cibo per poveri perché il ricco il signorotto cacciava mangiava cacciagione aveva il lusso di poter uccidere per dire anche un capo di bestiame una cosa del genere mentre il povero no però oggi è cibo considerato di buon livello il salmone l'aragosta io sull'aragosta non l'ho mai incontrata nelle fonti medievali ti credo se tu hai letto in proposito non credo che fosse sulla tavola di tutti comunque l'aragosta anche nel medioevo il salmone magari sì in Europa dipende dalla zona da noi ti accontentavi dell'acciuga fondamentalmente però non mi stupisce che il salmone potesse non essere pregiato semplicemente perché in effetti c'era questa cosa molto forte che il nutrimento buono è la carne e il pesce invece vuol dire mangiare pesce vuol dire far penitenza come sai come dire fino a non molto fino a una generazione o due fa effettivamente il venerdì non si mangiava carne e in quaresima non si mangiava carne poi cosa mangia appunto è diventata una cosa un po' ridicola c'era una volta c'era la come dire il pettegolezzo di un certo cardinale che il venerdì dovendo far penitenza si faceva venire in aereo la buia besta marsiglia e va bene però a noi oggi questo sembra ridicolo però il pesce effettivamente per questi motivi è stato considerato un cibo inferiore per tanto tempo sì sì e lì è colpa dei barbari è colpa dei germani per i quali sbranare arrosti era la prova che sei un vero uomo sai che Carlo Magno tutta la vita ha mangiato arrosto e basta e in vecchiaia dice Ginardo il suo biografo siccome cominciava ad avere un po' di dolorini a tutte le parti i medici fra l'altro gli hanno consigliato non di non mangiare più carne ma di mangiare bollito anziché arrosto e Carlo Magno no arrosto quindi ecco quella cosa lì ce la siamo portata dietro problema dalla gotta se la portavano dietro per un bel po' allora vedo se c'è qualche domanda diciamo abbastanza interessante da poterti porre così velocemente domanda per Barbero cosa ne pensa il film The Last Duel sull'ultimo duello di Dio molti film sono pochi curati e veritieri ma questo merita veramente non so se hai avuto l'opportunità io non l'ho visto di che film si tratta di cosa parla sono due cavalieri che praticamente si sfidano a duello per una dama lo giudizio di Dio diciamo no 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 stavo per dire beh però magari lo vedrò in realtà no non lo vedrò perché io non ho mai visto un film o una una serie ambientata nel medioevo senza che mi si torcessero le budella in un modo o nell'altro in qualche caso ho visto anche dei gran dei film in rari casi qualche film di Pupi Avati mi è sembrato un gran bel film un successo dal punto di vista filmico però lo storico non si diverte lo stesso perché sta sempre lì in attesa che arrivi la cosa la cosa sbagliata ecco quindi temo che anche questo non perché barra che storicamente fosse l'ultimo duello diciamo dell'epoca io per esempio ne cito uno che secondo me è molto buono I duellanti ambientato in epoca napoleonica è un buon film da molti è considerato un grandissimo film a me è piaciuto senza entusiasmarmi è un po' lento forse è quello il nostro gusto di oggi ormai è un po' lento però no no quello è un buon film no no ma io non sono contrario ai film sui duelli non sarei contrario neanche ai duelli se fosse ancora possibile farli in certi casi sarebbe un buon modo per risolvere le controversie parlando di storia e memoria no e l'importanza delle fonti per il lavoro che facciamo io cerco di farlo diciamo geolocalizzando le fonti per quanto riguarda il conflitto in Ucraina che è un modo diciamo abbastanza moderno di fare un po' l'investigatore un po' come diceva Mark Bloch c'è una grossa differenza tra storia e memoria spesso si tende sempre a confondere anche adesso io vedo la polarizzazione che avviene in Italia su quasi come se fosse una partita di calcio questa guerra in corso invece di concentrarsi su quel che accade realmente si tende sempre a anche scegliere il tipo di notizie che si vogliono se tu dai le notizie diciamo cattive pur provate con le fonti e tutto se uno non è di quella fazione allora dice che sei tu fazioso a me questo ricorda sempre il giudice rosso so se te lo ricordi che era un giudice in epoca fascista che semplicemente mandava in galera anche fascisti e venne accusato di essere fazioso io dico sempre non era né rosso né bigio era semplicemente un'anima onesta e nel mestiere del giudice c'è anche quel problema che si viene accusati di essere per una parte quando non si è disposti a servire l'altra ah sì certamente è così quando ci si polarizza è così per forza ed è probabilmente anche inevitabile il punto il problema nasce quando uno fa il mestiere dello storico e al tempo stesso deve esprimere quello che pensa sulla realtà intorno a lui il presente no ecco perché per carità lo storico può anche benissimo dimenticarsi di essere uno storico ed essere fazioso nel valutare il presente esattamente come tutti gli altri io che in certe cose sono sicuramente molto fazioso non parlarmi del Torino della Juventus per esempio perché sarei fazioso ma al tempo stesso invece faccio fatica a rinunciare alla visione dello storico il quale colloca gli avvenimenti di adesso in un continuum e quindi fatica a rimanere stupefatto perché succedono certe cose e tende anzi a dire ma ragazzi ma queste cose sono sempre successe cosa mi faceva pensare che non dovessero più succedere e tende anche naturalmente voglio dire così come chi studia l'olocausto deve anche cercare di capire cosa avevano in testo i nazisti e perché hanno fatto certe cose e non è che può limitarsi a dire perché erano cattivi perché se no non va da nessuna parte naturalmente no? e così anche nel presente la cosa più importante dal punto di vista dello storico che non deve portare a casa un risultato politico ma fare il suo lavoro usava la sua testa come è abituato a fare dal punto di vista dello storico l'unica cosa che interessa è vedere le ragioni i torti la mentalità la memoria il modo di ragionare le motivazioni di tutti quelli che sono coinvolti poi se ti sembra che stia accadendo qualcosa in cui c'è qualcuno che ha palesemente ragione e che è ingiustamente vittima allora puoi anche lasciarti andare a parteggiare naturalmente smetti di essere uno storico e diventi un cittadino del mondo che di fronte alle cose prende una posizione può anche darsi che fare lo storico ti porti a dire ma non è poi così evidente che ci sia qualcuno che è solo ed esclusivamente vittima e qualcuno che è solo ed esclusivamente colpevole e allora mi interessa forse più capire ancora meglio che non che non decidere da che parte sto quella è una deformazione del nostro mestiere nella misura in cui rischi di rimanere fuori dal tuo tempo quando invece tutti i tuoi contemporanei trovano ovvio che si parteggia e che si sposa una causa ecco no in quel caso tu rischi di dire ma perché ma non vedete che le cose sono più complesse di così insomma sono felici di non essere più solo perché io spesso vengo criticato perché dico io non ho un cavallo in questa corsa e quindi io mi limito a cercare di narrare quello che succede nel modo più onesto senza partigianerie e tanto mi compete né nulla più saranno altri a decidere la ragione e il torto dopo di me perché tutte le evidenze insomma non sono ancora alla mia portata e quindi con questi ragionamenti non faremmo grande strada né nel giornalismo né in politica no infatti se c'è una delle offese che mi viene recata più spesso complimenti per il suo lavoro giornalistico io no ti prego tutto ma non il giornalista senti Mirko io fra un po' purtroppo ho un altro incontro quindi dovremmo dovremmo concludere il nostro abbi pazienza anche se è stato molto divertente per me ma va bene allora io ti ringrazio per questa fantastica chiacchierata abbiamo fatto un escurso veramente di qualsiasi cosa siamo veramente passati di pallo in frasca ma io questo volevo nel senso non mi piace fare le cose un po' ce lo siamo detti anche via me non creiamo una struttura vediamo va dove ci porta il vento in un certo senso e quindi è venuta una cosa più spontanea più diciamo aperta e quindi va bene così io ti ringrazio tantissimo per essere passato per averci dato questa opportunità per farci questa chiacchierata non ti dirò che ti richiamo subito perché so che te già c'è questa cosa no ti prego non voglio mettere questi paletti quindi grazie tante Alessandro e alla prossima speriamo ma comunque sei d'accordo arrivederci piccolo segreto fra me e te quelli di San Marino hanno chiesto se ti fai sentire cosa fra me e te quindi noi ci vedremo lì poi va bene va bene ciao grazie a tutti e alla prossima